Un po' stupisce, però come dicevo voglio approfondire e parlare direttamente con lui. L'unica nota che non mi piace è che qualcuno sia già contento che le cose, a modo loro di vedere, vadano male. Io credo che non stiano andando male, anzi stanno andando benissimo. Massimo Ferigutti ha lasciato l'incarico di presidente della Fondazione Teatri delle Dolomiti. Motivi personali l'avrebbero costretto a presentare al sindaco le sue dimissioni all'apparenza irrevocabili. Sorpresa? Terremoto? Secondo voci di corridoio, peraltro note sin dal momento della nomina poco più di un anno fa, clima e rapporti personali con Palazzo Rosso non erano tutti rose e fiori. Già lo scorso settembre c'era stato un susseguirsi di mormori sulle presunte dimissioni di Ferigutti, di cui è sempre stata nota la richiesta di un compenso per il ruolo di direttore artistico della Fondazione, pur se lo statuto non contempla elargizioni ai componenti del Consiglio di Gestione. Se il refrain è rimasto lo stesso, c'è da scommetterci che neppure il colloquio che il sindaco De Pellegrin intende fare vis-à-vis con Ferigutti andrà a buon fine. Un capitolo chiuso? Niente è un capitolo chiuso, quando c'è dialogo, quando c'è voglia di portare a termine i progetti e raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Dopo l'incontro con il presidente dimissionario, il sindaco sarà tenuto a condividere le sue riflessioni con la Giunta, Poi si vedrà. Tensioni c'erano anche con i tre soggetti residenti, Circolo Cultura e Stampa, Slow Machine, Tibbe Teatro, soprattutto per le risorse destinate dalla Fondazione alle rispettive stagioni teatrali. Lo scorso anno, in polemica, Slow Machine aveva ringraziato, cancellando i suoi progetti. Oggi la richiesta è quella di rivedere lo statuto della Fondazione, con un presidente di nomina pubblica e un direttore artistico esterno, scelto attraverso un bando, che a questo punto potrebbe proprio essere Massimo Ferigutti.